Mi fa piacere che comunque mi dite queste cose, che magari c'è tanta attesa per me, è uno stimolo in più ancora per fare bene e dare un contributo in più a questa squadra che non penso meriti queste due sconfitte che sono arrivate. Cercheremo in ogni modo di fare bene e dimostrare quello che valiamo veramente. Sono stato fermo perché comunque ho giocato per 4-5 anni contro Alvarese e mi hanno dato tanto perché ho visto sempre una squadra che comunque non mollava mai, una squadra sempre dura da battere, una squadra difficile da giocare. Poi ringrazio comunque i dirigenti che mi hanno dato fiducia e ho scelto Alvarese. Adesso però tocca a me a dimostrare tutto quello che mi hanno dimostrato loro per me. Sono abbastanza credente, credo in Dio, vado molte volte in chiesa.